ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a parlare di un'offerta un po particolare interessante ok l'operatore virtuale di cui non abbiamo mai parlato perché non perché io abbia qualcosa contro quell'operatore ma semplicemente perché ha sempre fatto offerte fuori mercato completamente fuori mercato ma aggiungo un paio ma mi ha sorpreso pochettino con questa offerta che ho visto e quindi voglio andare a vederli e ad analizzarle siamo voi probabilmente per molti di voi questo nome è un nome arabo di questo trattore magari da dove viene fuori operatore è da un po che fuori in realtà e di cosa di chi sta parlando di noi un'imposte un'operatore sempre virtuale sempre di proprietà di noi tell sempre tipo atr e opera sempre 60 megabit nel lode 30 megabit in upload sotto rete volafone quindi soltatura come la barbona come un mobile e così via insomma ce ne sono tanti questa struttura qui ma andiamo a analizzare insieme vedere un po il sito per avere ancora fatto e le offerte in questione l'offerta magari abbiamo una spulciata veloce anche gli altri perché perché anch'io lo conosco poco in realtà come ho detto lavoro che ha tempo fa ma tra l'altro non so neanche che numerazione abbia se è curioso di quello io ogni tanto ve lo dico mi piace guardare anche gli operatori virtuali e fisici quando magari scopo che esiste studio le quali a vedere che numerazione a con cosa inizia un numero di in questo caso un'imposte perché forse non è importante però è bello che vedere la numerazione come inizia non lo so è un po per varietà ecco siamo abituati sempre ai 371 340 e così via allora questi virtuali qua generalmente ma non sempre cambia qualcosetta non sempre comunque direi di non perdere tanto altro tempo di andare a vedere la pagina dell'offerta e l'operatore e parlarne insieme eccoci qua siamo un'opera nel sito di ogni poste non sono andato subito in prima pagina e andiamo a vedere cos'è allora sta roba non ci interessa va bene tlc vabbè dov'è che l'ho visto non ho posto o no forse qua vediamo ma dai non ha anche la preparata vediamo no anzi no non facciamo stiamo parlando di anche la preparata che se c'è delle poste ogni poste poi perché qui nel canale Roma vabbè comunque noi adesso andiamo a vedere le offerte che secondo me sono qua da qualche parte strano ma scusa un attimo ma porca miseria allora dove diamo lo è posto e finanziamenti forse qui telefono e internet sì sarà sicuramente questo dovrebbero un attimo rivedere lo sito per renderlo più facile atlc mobile vabbè un'imposte mobile questa è a 3 euro 2 giga easy 300 minuti vabbè dai senza infamie senza lode oddio ci può stare dai 300 minuti anche inclusi 10 messaggi inclusi vabbè la economy è a 5 euro beh questa ovviamente non la consiglio perché a 5 euro ci sono una valante di offerte migliori quindi questa no bocciata l'economy la easy vabbè dai per chi ha poche pretese vuole spendere poco ancora ancora ci può stare 3 euro dai ma l'economy no la superfooder è quella che voglio andare a vedere insieme a voi se noi clicchiamo sulla pagina sull'offerta ci fa andare a vedere ci fa andare a vedere perché no io come faccio a vedere l'offerta se vuole vederla devo mettere il sito desktop mi viene il dubbio adesso vabbè proviamo a mettere il sito desktop a questo punto magari così lo apre vediamo no non lo vuole aprire non lo so vabbè volevo vederla ma forse offerte uniposte come ovale attive sarà questo vabbè quindi solo da qua me la posso guardare e anche tra l'altro ho streminzito vabbè non si sa l'attivazione non si sa la spedizione in tutte le agenzie uniposte o sul sito ah che attivazione 5 euro si mi diceva quindi in teoria spedizione gratis in teoria oh sono proprio sprecati fare la descrizione come si deve e non è proprio bene questo anche tra l'altro il contratto c'è adesso andiamo vabbè diciamo che tralasciando che sono sprecati nel fatto a spiegare bene però dai comunque 150 giga minuti limitati 50 messaggi non è male 8 euro ragazzi io direi che comunque il prezzo è buono ma diciamo un bel ma prima andiamo a analizzare il contratto dell'offerta perché voglio capire un attimo perché la easy io ancora ancora la consiglierei chi magari ha poche pretese consumo poco qualche anziana che magari usa poco internet 3 euro non è male dai copertura vodafone ovviamente quindi fatelo solo se siete va bene vodafone da voi la super full lì a 150 giga non è niente male bisogna capire se uno incluso hotspot due perché adesso andiamo a dare un'occhiata insieme devo mettere pausa un attimo perché devo uscire eccoci qua carta della qualità dei servizi di comunicazione ah quindi non è attivabile online spedizione pagamenti ricariche my post web post telefono internet quindi io se volessi ah ok passare ogni post è felicissimo basta ricarsi presso non storabilitato e acquistare la sim quindi online non è possibile farlo bisogna andare per forza in uno storabilitato ma per sapere se c'è uno storabilitato come faccio per saperlo misure informazioni commerciali analizzato auto un'iposta sembra che abbia parecchie robe in realtà però perché c'è scritto un'iposta mobile e lì c'è scritto tlc mobile telecomunicazioni perché tlc cosa dovrebbe significare vabbè comunque l'offerta è buona ma io voglio capire potrò fare contate sì sì ma ci chiamano dopo bisogna carte la qualità dei servizi proviamo a vedere questo non saprei vediamo vediamo un po' qua premessa ogni poste garante comunicazioni uguaglianze in parzialità principi obiettività e giudizioni garantire parità di trattamento ai clienti parità di condizioni di servizi prestato un'iposta interpreta anche le simili clausole e le condizioni generali estendosi le norme regolatrici del settore smote mezzurro garante favorito ogni forma di frizione differenziata continenta partecipazione può produrre materiale documenti contenenti suggeriti migliorare la funzione di servizio del rapporto con il cliente stesso i venditi nei posti sono tenuti a indicare un po' significativo se il rapporto possono avere beh allora non male sembra un operatore che punti avere un rapporto più serio in confronto ad altri operatori che magari hanno il casco con il center un po' ecco da 4 soldi o che magari trovi quello un po' arrogante o che non ti vuole parlare o così sembra buono cos'è che era quell'altro operatore che operava sotto rete Win3 come si chiamava Green Mobile forse non mi ricordo se si chiamasse Green Mobile mi pareva di sì che aveva più o meno lo stesso concetto ovvero che non aveva il call center un uomo dedicato una persona dedicata uomo o donna insomma quindi quando ti chiamavi il call center automatico ti rispondeva lui o lei quindi quello sembrava buono a quell'azienda allora finiamo di leggere qua ogni post si impegna a massimo cortesia va bene nei confronti dei clienti a fornire ai propri dipendenti le opportunità indicazioni le opportune indicazioni i dipendenti di ogni post sono tenuti a indicare il proprio identificativo sia nel rapporto personale che nella comunicazione telefonica molto bene quindi sapete con chi parlate va bene che in realtà molti operatori dicono sì ciao sono Marco sono che ne so efficienza efficacia un'imposta persegue l'obiettivo del progresso miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nei suoi servizi adottando soluzioni tecnologiche e organizzative un'imposta opera nella temporanza e percipare il diritto di scelta a tal fine si impegna ad adottare la massima trasparenza e la competenza nella diffusione di informazioni relative alle condizioni tecnico economiche e contrattuali dei vari servizi offerti il contratto per la fornitura dei servizi sull'eventuale atto sono resi accessibili e praticabili attraverso procedure semplici vediamo qua come indicatore riguardo principalmente servizio telefonica fissa assistenza telefonica accesso internet alla fatturazione disponibile in formato cartaccia pagamento in formato elettronico effetto non è che magari sia solo con addebito su IBAN non lo so di norma su base missile partecipata la fattura è inviata al cliente con una meno 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza altra forma di periodicità e fatturazione pagamento ai servizi pagamento di fattura di fattura di fatturazione di fattura di fattura di fattura di fattura di fattura di fattura o mezzo conto corrente postale la carta di credito si intende anche preparata quindi ok un'iposta si riceve la facoltà di introdurre nuove modalità di pagamento quindi niente paypal in teoria unità dimora interesse nei giorni di ritardo pari important quindi allora c'è una cosa da analizzare qui quindi suppongo che non sia come ricaricabile ne dubito fortemente secondo me solo con addebito secondo me si perché vedete che parla di dimora fatture cose così allora o le opzioni sono due o è semplicemente una brochure generica come fanno molti operatori senza salire a differenziare il privato dalla partita iva e quindi la scrivono e magari non coinvolge non i privati ma coinvolge solo chi ha una partita iva che vuole farci un'offerta con un'iposta questa è la prima o la seconda che oppure che veramente un'iposta sia il privato che all'azienda fa solo con addebito in automatico oppure ti arriva il bollettino a casa da pagare cavolo ma se il bollettino siamo indietro di ragazzi vent'anni però non penso secondo me documentazione vecchia sapete mi piacerebbe provare anche a chiamare magari un giorno sabato se sono aperti magari sai cosa faccio io la chiamata la faccia mi chiedo chiedo la spedizione mi informa un po' sull'offerta quella la 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 sono curioso ragazzi perché mi pare bene da come dicono così il discorso della mora bisogna capire un attimo eh si comunque documentazione della debite e autorità dei consumi secondi conversazioni questo è l'ospettivo per essere inteso vabbè però se noi abbiamo i minuti intesi eh se non è esattamente se la condizione telefonica quale strumento di hotel ha un limite di credito sul traffico che comunicare al cliente determinato sulla base di indici ok modifiche delle condizioni contratuali ok aspetta ogni modifica delle condizioni contratuali che disciplina il rapporto tra ogni posto e il cliente sarà comunicata tramite modalità previste delle condizioni generali del contratto qualora le modifiche comportano un aumento degli oneri del cliente lo stesso è la possibilità di recedere dal contratto senza applicazione di penale quindi c'è la possibilità che rimodulano come ho detto a tante altre persone come lo dico anche io un virtuale che rimodula ancora io non l'ho visto però c'è la possibilità come l'ho anche scritto fastweber dopo 12 mesi che può non è detto che lo faccia perché anche fastweber fin adesso non l'ho mai fatto però siccome c'è scritto e siccome lo dicono io ho l'obbligo di dirlo non è che posso fregarmene e non prenderlo perché è una cosa che c'è chi può fastweber e cerchi no ripeto questo non vuol dire che rimodulano che uno dice cavolo dopo poi mi rimodula potrebbe essere come potrebbero non essere è difficile già ogni poste adesso io non so quanti clienti abbia come telefonia quindi insomma non so se veramente vi convenga però ecco c'è sta possibilità va bene ogni poste sicura più clienti dovranno essere istituiti ogni poste beh qui non è come un dato d'uso in teoria no non è che sia un sim però non penso va bene reclami il numero dei reclami ok debito in fattura servizio cliente riporta il numero di reclamo l'esito del reclamo di assegnazione il cliente che non sia soddisfatto potrà richiedere documentazione relativa va bene allora ogni posta sicura verifica periodicamente la chiarezza e la comprensibilità dei documenti destinati alla clientela ne garantisce l'accessibilità ogni poste ci insegna a mantenere a livello del proprio servizio in linea con gli stand e nel mercato in caso di concessione di rete situazioni che generano un altro numero di chiamate ogni poste prevede l'utilizzo di caselle di posta vocale per garantire al cliente la possibilità di notificare le ragioni delle chiamate e aumentare le performance di raggiungibilità nonché offre un appoggio servizio a contatti via web ma quindi caselle di notificare le ragioni le chiamate praticamente allora se loro rilevano che voi è stato usato tanto le chiamate e cosa così potrebbe salvaguardare la rete come ci sono scritte alcuni operatori quindi come c'è scritto qui prevede l'utilizzo di caselle di posta vocale per garantire al cliente la possibilità di notificare le ragioni delle chiamate quindi praticamente non so quanto può succedere ma potrebbe succedere che dice ho bisogno di capire perché tu che ormai sta usando così tanto il telefono allora mi pare strano che con quanti minuti vada a 300 minuti mi pare non sono così tanti però semmai ci sarà qua una parte voglio vedere adesso io dettaglio la privacy dettaglio i personali va bene si ok mi posso assicurare che i propri seguenti possono esistere diritto va bene procedura di conciliazione vabbè indenizi automatici sospensionale cestazione di servizio l'abilitazione della carta e i punti di contatto ah finito quindi io dove posso vedere scusa i gigo quanto posso consumarli non c'è specificato quindi cosa significa che in teoria posso farmi fuori anche tutti un giorno però là sotto c'era scritto che se lei rileva che stessono troppi giga potrebbe dire oh come stai facendo dammi la motivazione e prendere anche magari i propri dimenti non lo so ragazzi qui non c'è tanto specificato ogni posto e una tiratina d'orecchie bisogna fartela buona l'offerta il prezzo buona anche quella economica ci sta dai ok no l'economy quella quella da 3 euro però devi migliorare il sito devi intanto fare una brochure come si deve specificare bene tutte le clausole c'è scritto qui che il loro rapporto con il cliente è un problema importante così bene allora se davvero è così devi migliorare questo perché lo hanno fatto tutti e deve adeguarsi se vuole essere un minimo competitivo perché non basta fare l'offerta buona e dire boh tutto il resto diamo per scontato perché sì c'è l'utente che magari se ne frega fa la stima e basta però quando arriva magari la sorpresina perché sono cose che non ha capito o che magari non c'era scritto nel contratto perché non li ha lette cose così sempre brutto perché dopo scorciante devi stare lì chiamare insomma avete capito cosa intorno a dire io penso che la cosa migliore sia essere il più aperti e onesti possibili questo non voglio dire che ogni post si è disonesto assolutamente no non lo conosco anzi mi hanno delle buone promesse ma deve migliorare molto sul sito web perché non è specificato da nessuna parte i giga se l'autospot è incluso che cosa è incluso se ti richiama chiami cosa così devo capire come avete visto cliccare sull'offerta non puoi poi è frodo vederti sta cosa qua o l'altra pagina una misera pagina con riassunte tra offerte proprio fare meno fatica possibile non è possibile una cosa del genere non è un bene questo perché comunque dimostra poca attenzione sulla telefonia mobile probabilmente perché allora c'era un po' che è fuori un'iposta non è che è uscita ieri insomma sulla telefonia mobile ha sempre avuto prezzi folli l'ho vista di recente questa offerta qua quella 799 e secondo me è buona ok io andrei a prima vediamo se riesco a fare una chiamata sabato se sono aperti e qua c'è anche scritto l'orario che sa insomma è sabato mattina se sono aperti per chiamare e chiedere mi pare che ci fosse scritto eccolo qua beh reclami segnalazioni numero gratuito quello che ha scritto lì in alto no lì l'orario non c'è però avevo scritto qua 8 e mezza luna e il sabato dalle 8 e mezza maggiore e mezza ok quindi volendo che allora vediamo se riesco questo sabato a chiamare voglio chiamare chiedere per quell'offerta lì se ci sono vincoli se è obbligatorio adebitare sull'ivan che costo ha la spedizione se ce l'ha i giga come sono spartiti insomma chiederò un po' di cose se mi rispondono numero verde quindi in teoria non pago in teoria spero o meno numero verde quindi poi magari vi aggiorno ok ragazzi quindi al momento vi lascio un po' in sospeso però comunque le offerte le avete viste ecco le avete analizzate per il prezzo è sicuramente buono 7,99 non dico di no anzi molto buono molto bene a parte ogni poste ma deve fare un paio di pagine o almeno una brochure come si deve che spiega nel dettaglio l'offerta perché così è troppo vaga e penso che l'avete visto anche voi no forse tra tutti gli operatori che ho che ho parlato fin adesso ok penso che ogni poste sia il peggiore come struttura della pagina di informazione dell'offerta in assoluto sì anzi no forse è sicuramente il peggiore ma ha dei buoni propositi però da quello che abbiamo detto cioè che attenzione al cliente se dai consigli lo accettano l'operatore ti segue di più ci sono scritte cose così poi bisogneria provarlo ripeto se l'offerta è senza vincoli se l'offerta è ricaricabile quindi posso tenerlo come voglio se non ha penali di recesso se sono libero a usarlo come voglio come dovrebbe essere così se si è incluso lo spot così potrei anche pensare ci penso su di farmi la sim ogni poste ok numero nuovo magari bisogna capire se la sim rimane con te o se rimane tua o se devi renderla ok comunque da restare strassionizzati sabato mattina proverò a chiamarli proverò poi appena ho chiamato e so qualcosa faccio un video magari in giornata verso sera insomma ok quindi ecco mi raccomando restate strassionizzati se magari voi avete già delle domande delle informazioni riguardo ogni post e volete condividere con sotto con me o con gli utenti volentieri ecco scrivete ragazzi mi fa solo che piacere ditemi cosa ne pensate voi di questo ogni post se avete già sentito parlare se l'avete già provato se avete amici che l'avano usato qualsiasi cosa insomma tutto aiuta quindi cos'altro dire ricapitolo velocemente l'offerta 7,99 buono ok c'è scritto che l'offerta cos'era 10 euro sim e 5 l'attivazione mi parano poi c'è il primo mese dell'offerta ok e quindi non c'è specificato se è a debito con IBAN o per pagata quindi devo capire certe cose come di dirle se non so non dico quindi copertura Vodafone 60 megabit in download 30 megabit in upload copertura virtuale tipo ATR di proprietà di Noitel aggregato mi pare che sia Plintron dovrebbe essere quello che fornisce il servizio non so se con uniposte e anche proprietà di poste italiane non penso potrebbe essere però per essere scritto come modalità di pagamento conto currente postale quindi potrebbe esserci che ci sia qualcosa non ne ho idea non penso che sia un secondo di poste mobile perché è da un po' che è fuori solo che come ho detto non ho mai preso in considerazione per il costo elevato questa è buona quando so qualcosa ragazzi in fine settimana sabato se riesco faccio una bella chiamata all'operatore mi faccio spiegare nel dettaglio tutto siccome non ho detto che gli operatori sono gentili cordiali attenti al cliente vediamo se è vero che ne dite facciamo così così magari vi porto anche la mia esperienza ora al momento non posso farlo quindi cosa potrei portare la mia opinione preferisco andare sul sicuro chiedere certe domande dopo che ho chiesto che ho avuto le informazioni adatte io ve le porto a voi ok bene direi che con questo è tutto vi auguro una buona serata spero il video vi piaccia spero vi piaccia anche questa scoperta di questi operatori sconosciuti o semi sconosciuti e che io vi porto per parlarne e per farveli conoscere voi così dopo possiamo decidere insieme ecco grazie per essere con me grazie per avermi fatto a fare i 200 iscritti anche se uno ha mollato siamo tornati a 199 spero di tornare a 200 presto e vi auguro se rispondo in ritardo ai commenti che una volta vi chiedo scusa perché è un periodo un po' impegnativo perché chiuderà per le aziende chiuderà per le ferie le aziende è un periodo molto 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 pieno di lavoro e quindi ecco per quello quindi dai vi chiedo di portare a pazienza bene con questo è tutto è stato un bel viaggio anche questo scoperti le imposte vi auguro una buona serata una buona cena lasciate un bel pollice in su mi raccomando è molto importante iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e quindi vedete il video con le poste di avvicare ciao ciao